e poi l'ebook orchidee amore e psiche che è un ebook sull'anima delle orchidee perché le orchidee erano un'anima sono arrivato a questa conclusione qua ve l'ho già spiegato diverse volte l'ebook lo potete trovare su Amazon perché ho fatto con Amazon ieri su Facebook c'è una signora che ha postato un po' sulla consumazione organica che ha comprato lei abita in Norvegia ha comprato un cosiddetto di microrganismi sì oggi sono molto importanti questi microrganismi perché hanno proibito quasi tutti i fitofarmaci e allora adesso mentre prima i venditori di materiali per giardinaggio e agricoltura avevano scaffali di fitofarmaci adesso sono stati proibiti quasi tutti e allora hanno scappare di microrganismi e concimi organici perché questi organismi mangiano concimi organici di materia organica e allora per questo si danno le alghe per mantenere in vita questi microrganismi sono molto importanti proprio perché adesso non c'è quasi più fitofarmaci e non si può come una volta e ha ragione perché stiamo facendo disastri con questi fitofarmaci se ne è fatto un abuso da tutte le parti e vabbè allora la storia è questa che prima si sterilizzavano si sterilizzavano i terreni ancora adesso i terreni per le piante in vaso le terricce per le piante in vaso sono sterilizzati perché non ci siano semi di erbace e muore tutti i microrganismi che c'è dentro se guardate un terreno incolto cioè non coltivate in una zalla di terra c'è un mondo c'è un universo di vita in un terreno coltivato coltivato intensamente non c'è più vita è morta la terra perché prima si consumava con concimi organici e a lungo andare con concimi organici hanno eliminato cioè hanno fatto morire tutta la terra la dimostrazione è quando li arrono quando arrono un terreno incolto vengono giù un sacco di uccelli a mangiare i microrganismi che la rattura porta in superficie vermi monoscele vermi un sacco di microrganismi quando arrono un terreno di coltivazione intensiva non vengono giù neanche un uccello perché è vuoto non c'è più niente la terra è morta adesso è cambiata la filosofia prima si interveniva con i fitofarmaci adesso si interveniva interviene con le consumazioni organici per prevenire le malattie perché si arriva a un patogeno in un terreno che c'è la terra è viva c'è un organismo c'è un equilibrio biologico è molto rallentato da tutti questi microrganismi che ci sono anche tanti che sono antagonisti e viene praticamente molto ridimensionato mentre si arriva a un patogeno in un terreno di coltivazione intensiva che non c'entra più niente e fa disastri e allora giù quintali di fitofarmaci mi ricordo quando sono andato all'EOC di Parigi nel 2018 era a marzo 2018 per cui qualche giorno prima guardavo sempre le previsioni del tempo adesso non mi ricordo più su che canale e subito dopo le previsioni del tempo c'erano le pillole di Luca Mercalli che faceva queste pillole così sull'ecologia che diceva allora nel 2018 che in Italia si consumano non mi ricordo più quante migliaia di tonnellate di agrofarmaci agrofarmaci compresi quella per l'azoteclea che divisi per 60 milioni di italiani fanno 2 kg a testa per cui tutti gli italiani dai vecchi come me anche di più ai bambini appena nati hanno una media di 2 kg a testa però gli italiani pensate un po' quando vedete quelle belle mele al supermercato belle, lucide tutte uguali tutte perfette sono le mele di biacaneve perché fanno un sacco di trattamenti per evitare che arrivi perché sono mele a un puntino non la vendono più e loro giù facevano un mucchio di questi trattamenti così adesso si usa la lotta biologica con microrganismi antagonisti per esempio noi quando viene la cocciniglia prendiamo dei insetti antagonisti che uno è crisopac e l'altro è un montuserio qualcosa così in due giorni non c'è più una cocciniglia li prendiamo dalla ditta bioplanet che loro sono specializzati in queste cose qua hanno tutti insetti e microrganismi antagonisti di uno un problema spiega loro che cosa ha così gli danno l'antagonista giusta evitate di dare via di spargere i veleni per casa e di anche voi fare trattamenti così e non distruggete anche un sacco di insetti utili perché quando si danno disinfettante quegli insetti per esempio per la cocciniglia non ammazzano solo cocciniglia ammazzano un sacco di insetti e non va bene perché alteriamo l'equilibrio biologico per cui adesso si fa una concimazione organica e la concimazione chimica però la concimazione organica non è sufficiente dagli microorganismi bisogna dagli anche le aghe perché appunto questi microorganismi per stabilizzarsi al terreno dovete dargli anche da mangiare allora gli si dà le aghe una volta che avete dato i microorganismi poi bisogna fare ogni tanto la concimazione organica appunto per mantenere in vita questi microorganismi e poi questi microorganismi bisogna vedere se è una data di scadezza perché tante volte li prendo io vedevo quando facevo i microorganismi nel bidone cioè li faccio ancora adesso nel bidone con dentro come si chiama i microorganismi quando gli metto dentro le aghe è come vedere i pesci quando avevano galla a mangiare piccolini così vedete un sacco di piccoli movimenti questi sono i microorganismi che vengono a mangiare le aghe però se lo gli date le aghe mangiano le radici delle orchidee mangiano cioè noi dobbiamo mangiare il materiale organico mangiano la cortezza mangiano i bar per cui dategli le aghe che non siamo più contenti con le aghe e noi siamo più contenti che non mangiano le orchidee non mangiano i bar ok a domani a domani a domani Grazie a tutti.